Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi ho portato nel bosco perché voglio fare un rilievo con il GPS di questa pista da cross alle mie spalle. Utilizzerò un GPS R6 GLONASS, un controller Trimble TSC2 a cui attaccherò il mio telefono tramite l'hotspot per connettermi alla rete di correzioni gratuita della Lombardia. Qual è la challenge? Vedere se l'R6 resiste in mezzo a tutti questi alberi, ovvero se prende abbastanza satelliti per andare in fisso. Procediamo subito. Attraverso l'impostazione del telefono attivo l'hotspot per permettere al mio TSC2 di connettersi tramite wifi a internet. Una volta stabilita la connessione possiamo accendere il GPS, creare un nuovo lavoro. Lo chiamerò bosco, proprio perché ci troviamo in un bosco. Utilizzo le impostazioni per definite con il sistema di coordinate 32 nord. Come potete vedere abbiamo già ben 13 satelliti. Ora possiamo procedere con la misurazione. Come potete vedere abbiamo già ben 13 satelliti. Come potete vedere abbiamo già ben 13 satelliti. Abbiamo finito il rilievo. In modo molto comodo e veloce potrete inviare i vostri file al telefono utilizzando il bluetooth. In modo tale che una volta sul telefono potrete inviarli, che ne so, via mail al vostro studio. E il lavoro in tempo zero arriverà ai vostri collaboratori. Con questo video volevo dimostrarvi che anche se avete un budget ridotto per la strumentazione non vi dovete preoccupare. Se prendete gli strumenti ricondizionati avrete sicuramente l'efficienza e la produttività di strumentazione nuova. Se volete maggiori informazioni su Trimbo da R6 o Trimbo da R8 basta scrivermi nei commenti oppure andate una mail direttamente a info.geoglobex.it. Io mi sono divertita molto a fare questo rilievo e voi? Spero vi sia stato utile. Io vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!